Sono in tutto 7, due dei quali ritenuti davvero pericolosi, i pregiudicati del barese che hanno lasciato il carcere nei giorni scorsi a seguito dell'emergenza coronavirus ed hanno ottenuto tutti gli arresti domiciliari. I due esponenti di rilievo nella geografia criminale locale sono il presunto boss malavitoso di Trani, Gaetano Rano, ritenuto in passato vicino all'allora capoclan Salvatore Annacondia, prima che questi si pentisse, e l'andriese Valerio Capogna. Rano nel 2014 fu coinvolto in un blitz sul narcotraffico dalla Colombia al nord barese. Il 7 aprile del 2019 fu ferito di striscio al collo da un colpo di pistola mentre era davanti ad un bar. Capogna è invece il figlio di Vito che fu ucciso in un agguato il 25 luglio scorso ad Andria, Valerio Capogna, assieme al fratello Pietro, aveva deciso di vendicare la morte del padre. Per questo i due fratelli furono arrestati nel febbraio scorso per detenzione di armi anche un Kalashnikov aggravate dal metodo mafioso con le quali avrebbero dovuto vendicare proprio il loro padre. Sia Rano che Capogna sono però affetti da gravi problemi di salute. Gli altri 5 scarcerati sono il presunto trafficante di droga di Conversano Nicola Laselva, Armando Presta, presunto estorsore tranese, Vincenzo Sassanelli, Ruggero Brancacci, Antonio Lovreglio, figlio di Battista. Un ottavo pregiudicato, scarcerato e posto ai domiciliari è Nicola Capriati, barese da tempo residente in Veneto, del quale si è occupata invece la DDA di Venezia.